Numerosi i temi dibattuti durante l'Assemblea dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, primo tra tutti il gravoso problema dei costi energetici. Sentiamo il commento del sindaco De Pellegrini che assieme all'assessore Paolo Gamba ha portato a Bergamo la voce della montagna. Sono stati due giorni importantissimi all'Assemblea dell'Anci Nazionale a Bergamo. È stata un'opportunità di confrontarmi con altri sindaci, sviluppare idee, e comprendere come sono state trovate delle soluzioni sulle specifiche problematiche, quindi anche confronti con altri comuni che vivono la montagna come il nostro. Il Presidente De Caro è stato chiarissimo, ha lanciato un monito al Governo perché con i costi che sono saliti dell'energia, quindi i costi energetici, i comuni sono in difficoltà e quindi un chiaro messaggio che bisogna assolutamente tenerne conto e soprattutto arrivare ad avere dei ristori concreti. Da sindaco di una città capoluogo posso dire che lancio anche un ulteriore monito perché la montagna ha le sue problematiche forse più evidenti nella fase invernale rispetto a altri territori e io credo che il Governo debba iniziare quanto prima a riprendere in mano la legge sulla montagna e portare beneficio a questi territori per dare la possibilità alle genti che vivono, la montagna che è un territorio bellissimo, ma dare pare opportunità a tutti gli altri territori. Quindi si parli di pianura, di mare, ma la montagna ha sicuramente delle problematiche diverse che vanno messe nell'agenda di questo Governo.